Se vi umiliate al mio prospetto, io vi darò il mio amore. Non vi espargerò dell'acqua pura, sarete puri, vi purificherò dell'impurità dei vostri peccati. E vi darò, vi darò un cuore nuovo ed espanderò lo Spirito Santo. Lui vi guiderà nei momenti difficili, vi consolerà. Avrai una nuova vita e mi seguirai come Daniele. Tu mi adorerai e combatterai come Davide, tu vincerai. Io sono qui accanto a voi e sto guardando il vostro cuore. Ora io vedo la vostra affinzione, il vostro grido è arrivato a te. Se vi umiliate al mio prospetto, io vi darò il mio amore. Io vi espargerò dell'acqua pura, sarete puri, vi purificherò dell'impurità dei vostri peccati. Io vi darò, vi darò un cuore nuovo ed espanderò lo Spirito Santo. Lui vi guiderà nei momenti difficili, vi consolerà. Io vi darò, vi darò un cuore nuovo ed espanderò lo Spirito Santo. Io vi darò, vi darò, vi darò un cuore nuovo ed espanderò lo Spirito Santo.